Se le posizioni del Partito Democratico sono queste, possiamo trovare alternative alla partnership politica. Questa è la dura reazione di Durna Valder alle dichiarazioni del segretario provinciale del PD Antonio Frena sulla deriva, parole sue, della destra SVP, che da mesi si occupa solamente di temi etnici. E dopo il polverone ora tocca a Spagnoli dire la sua. La reazione del governatore può solo significare che qualche nervo scoperto è stato toccato, ha commentato il primo cittadino di Bolzano, secondo cui l'uscita di Frena sarebbe condivisa da buona parte del partito. Nessuno scandalo dunque secondo Spagnoli se i problemi della stella alpina qualche volta vengono messi a nudo. Del resto ha commentato quello di sollevare certe questioni fa parte dei compiti del segretario di un partito, l'importante è evitare eventuali rotture. Credo che il segretario Frena abbia svolto bene il suo mestiere, magari usando come suo costume un po' troppo la mannaia e un po' troppo poco il cesello, però nella sostanza ha fatto il suo mestiere. E sebbene il suo ruolo di sindaco non gli permetta di addentrarsi troppo in questioni come questa, Spagnoli sottolinea che certamente al posto di Frena avrebbe detto le stesse cose. Intanto nessun dietrofront da parte del segretario provinciale, che ribadisce che il suo pensiero resta quello espresso durante l'assemblea programmatica di sabato.